Cosa si nasconde in cucina? Made in Italy, strategie rivoluzionarie e nuove sfide. Sotto il tetto di un grande brand. Ed è davvero un immesso tetto quello che si staglia tra le colline marchigiane nel piccolo borgo di Treia, a custodire gran parte della produzione del gruppo Lube, l'azienda leader in Italia nel settore cucine. Un'avventura iniziata 55 anni fa dal sogno di due giovani. Un barbiere e un falegname. Questo è il bello della storia di questa Lube, ma la storia d'Italia, no? Di queste grandi aziende che nascono dal coraggio di due giovani che vogliono entrare su un mondo diverso da loro. Una sfida vinta, che oggi rappresenta una realtà in continua espansione, dove la capacità di guardare al futuro ha fatto la differenza senza mai tradire quei valori che fanno parte del DNA. La tappa fondamentale era quella di essere a servizio del cliente. Questa è nata e ce lo portiamo ancora oggi. Tu cliente, di cosa hai bisogno? Noi di quel bisogno ne facciamo, di quella necessità ne facciamo la nostra virtù. Passione e visioni hanno spinto l'azienda ad affrontare la strategica svolta di trasformare i clienti di un tempo in partner, lubizzando così il territorio nazionale in maniera capillare. Dovevamo metterli nella condizione di crescere, di diventare imprenditori. Allora ci è venuto in mente di dare l'opportunità ai nostri partner di aprire nuovi negozi, con la naturale evoluzione di non essere più con il loro nome, magari storico di famiglia, ma prendere il nome della Lube. Un disegno vincente affiancato anche dalla creazione di un nuovo brand e rete distributiva, Creo Kitchens, mirato a soddisfare le esigenze più giovani senza rinunciare a qualità e design. Così, proprio come accade alle collezioni più smart delle firme della moda, da quasi dieci anni Creo Kitchens sfila sulle stesse passerelle del gruppo Lube, proponendo scelte più economiche, progetti e ambienti più dinamici. Dal listello di legno al prodotto finito. La filiera attraversa i numerosi processi produttivi all'avanguardia e altamente automatizzati per consegnare oltre 350 cucine al giorno. Una vera e propria falegnameria 2.0 in grado di creare cucine su misura scelte tra decine di modelli e 480 finiture diverse. Oltre 500 store monomarca destinati a diventare 800 nei prossimi due anni. Sono numeri impressionanti quelli raggiunti dal gruppo Lube che alla base della ricetta di successo ci ha sempre messo il cuore. Devi essere un qualcosa che va oltre la cucina e questo è l'impegno quotidiano che abbiamo perché crediamo fortemente nel nostro modo di essere, di essere Lube. Io ci credo molto a un qualcosa che va al di là del materialismo. bisogna dare emozione. Come in uno scalo aeroportuale i pezzi finiti seguono il loro percorso codificato per raggiungere la spedizione e la destinazione finale. È entusiasmante scoprire cosa si nasconde dietro e dentro ad una bella realtà del nostro Made in Italy. Sous-titrage Société Radio-Canada